Ecco che è arrivato il giorno tanto atteso Di questo anno che è rimasto un po' in sospeso Purtroppo siamo stati di tanti rintanati Tra queste quattro dura però mai annoiati Per tutto questo mese con te abbiamo giocato Risolto in dovinelli eppure cucinato Finito, cruciverpa, insieme disegnato Ho scoperto nuove cose, storie e raccontato E all'ultima casella al biblioteca calendario E oggi tu festeggi col tuo bibliotecario Dicembre è stato un mese, tutto altro che banale E a tutti voi auguriamo uno splendido Natale Uno splendido Natale Ciao 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 Ciao